E' stato presentato ieri pomeriggio nella saletta Pignatelli della Fondazione Fabrizio Pignatelli di Napoli, alla Pignasecca, presieduta da Giovanni Padula, il libro Camaldoli, antologia storico-artistica con note letterarie e artistiche autobiografiche di Ruggiero Nigro, primario emerito dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta di un evento di particolare suggestione e interesse storico e iconografico. Sono state infatti proiettate e illustrate immagini relativi ai luoghi. Un altro evento che la Fondazione dedica alla città e alla sua riscoperta attraverso un percorso artistico e letterario. La cultura infatti con la solidarietà rappresentano il cuore dell'attività della Fondazione. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'autore, Ruggiero Nigro. Diciamo che parla sia dell'arte, sia della parte antologica, di avvenimenti autobiografici. Ho cercato di sintetizzare tutto in questo libro, il cui ricavato sarà devoluto per lo studio delle patologie neurologiche, particolarmente l'Alzheimer. Le patologie sono un po' trascurate perché poco redditizie dal punto di vista commerciale.